Un pacchettino, eccolo qui, nuovo, 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 tutto da provare, Foreo Luna Go, eccolo qui, provo ad andare un pochino più avanti, lo apriamo insieme, è il nuovo dispositivo di bellezza, anzi lo chiamano Beauty Device, che grazie al suo guscio in silicone, infatti in due modalità diverse, da una parte ci sono morbidissimi aghetti e dall'altra ci sono delle ondine, aiuta a pulire la pelle, a detergere il volto, a renderlo più luminoso, a togliere tutte le impurità e da questa parte aiuta ad appianare, lisciare, rendere meno evidenti le rughe del volto. Come funziona? Foreo Luna Go ha praticamente un sistema di carica tramite questo pispolino che si infila dentro, che è qua dentro, eccolo qui, si mette il pispolino, dall'altra parte c'è un normalissimo, scusate, dondola tutto, un normalissimo USB, si mette in carica, un paio di ore di carica, lo utilizzate poi per tantissimo tempo. Come si usa? Allora, si bagna leggermente, voi vi insaponate il viso con il solito detergente che usate, un detergente schiumoso oppure un latte detergente, non importa, è meglio se ciò che utilizzate non ha silicone dentro, perché a lungo andare potrebbe rovinare appunto il silicone con cui è rivestito. Lo accendete, lui comincia a vibrare, per capire quanto vibra ve lo metto qui, vedete che poi... Tondola, 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 ciao! Lo appoggiate sulla pelle, immaginate che sia il mio viso, e con la schiuma, ok? Lo pulite, ogni tanto lui si ferma per dirvi, guarda che devi spostare posizione, dopodiché lo richiudete, si ferma, voi vi sciacquate e a quel punto, una volta che vi siete asciugati il viso, lo accendete di nuovo e lo utilizzate da questa parte, questa parte è appunto l'effetto lisciante e appianante delle varie rughe, rughe, segni d'espressione, ma anche per l'occhiaio, l'unica cosa, il contorno occhi è scritto nelle istruzioni di usarli in modo molto delicato e insomma non tanto tempo, d'altra parte è una delle zone più delicate del viso. Ecco qui, questo qui è il foreo lunago, adesso lo chiudo, se ci riesco, certo sbaglio punto, e perché mi è piaciuto tanto? Intanto è piccolino, entra facilmente in un beauty case, quindi me lo posso portare anche in aereo, lo posso portare nel bagaglio a mano e poi ha un sistema di garanzia, eccolo qui, lo apriamo, ah c'è anche il sacchettino per riporlo, per metterlo dentro nei momenti appunto quando lo mettete nel beauty, così non si sciupa, eccolo, ah questo taglio, chiamiamolo questa fish magnetica dove si gratta il codice, ci si registra e il laggeggino e il lunago ha una garanzia abbastanza lunga se non sbaglio di due anni. Allora, non so se vi è piaciuto, io già l'ho provato ieri su di me ma anche su Francesco, perché non è detto che i beauty device siano soltanto per le signore, possono essere anche per i maschietti. Un abbraccio e ci risentiamo, questa volta ho fatto un po' bannamarchi, ma devo dire l'ho fatta molto volentieri perché io in Foreo Lunago mi è proprio piaciuto.